buonasera a tutti mi chiamo stefano bessoni sono un autore di libri illustrati regista cinematografico e in questi ultimi anni mi sono occupato di animazione stop motion costruisco burattini li animo e questo è diventato un po la mia ossessione perché parlo di ossessione perché l'argomento che affronteremo è proprio quello delle delle ossessioni e ho scelto stasera di parlarvi di un autore che come me è ossessionato da tantissimi concetti da tantissimi elementi e all'inizio ero molto combattuto se parlare di lui oppure parlare di un altro autore che mi è particolarmente caro che peter greenaway che considero il mio maggiore punto di riferimento e in quanto a ossessioni greenaway sicuramente ne ha ne ha da vendere a partire dall ossessione per l'acqua per l'annegamento il cibo il corpo la morte e tantissime altre però in questo ultimo anno ho un po abbandonato peter greenaway non abbandonato perché non credo più nei nella sua ricerca espressiva ma perché mi sono avvicinato un po giocoforza a tim barton perché mi sono avvicinato perché è stata allestita la sua prima grande mostra in italia al museo nazionale del cinema di torino ho collaborato ho realizzato un libro illustrato su di lui e quindi ho avuto modo di approfondire quell'autore che ha influenzato e ha veramente ossessionato quello che è il mio immaginario ma che non avevo poi mai preso il coraggio di approfondire nel nel modo giusto tim barton stesso lo considero un'ossessione perché mi perseguita veramente in maniera in maniera ossessiva era arrivato al punto che non ne potevo più di sentirmi dire a ma le tue cose fanno pensare al tim barton tu sei il tim barton italiano è certo che quelle teste così grosse tu le copi da tim barton quindi diciamo che da tanti anni sono talmente ossessionato dall'idea di essere una sorta di tim barton in miniatura che il fatto di doverlo affrontare di doverlo studiare è stato per me un qualcosa di molto positivo anche perché greenway l'altro punto di riferimento è stato una scelta è arrivato fin dal periodo degli studi e quindi ho deciso di seguire quelle che erano le sue pulsioni espressive tim barton è capitato nel mio immaginario in maniera totalmente prepotente inconsapevole perché perché è un un'icona pop potenza del cinema del cinema commerciale oggi nessuno conosce un filmmaker come peter greenway ma basta dire tim barton o senza neanche fare un titolo un film di tim barton anche mia madre mia zia o semplicemente il frutti vendolo sotto casa sa di che cosa stiamo stiamo parlando quindi tim barton potrebbe essere anche quasi un'ossessione collettiva tutti ne parlano tutti gridano tim barton tim barton ma veramente e poi chi lo conosce veramente è un autore particolare che come tantissimi altri autori fa dell'ossessione una scelta di vita è chiaro che per decidere di muoversi nel campo delle arti espressive che siano la scrittura la letteratura o che sia il cinema altre forme di espressione il motore che muove tutto questo è chiaramente sempre un'ossessione se non sia un ossessione di base per andare avanti per sperimentare per portare avanti una poetica personale difficilmente quello che si fa diventa così forte da potersi imporre nell'immaginario collettivo e tim barton è per l'appunto qualcuno che è che si è saputo veramente imporre nell'immaginario collettivo ma non l'ho fatto con la volontà di voler diventare un un'icona quelli quell'icona pop che noi tutti conosciamo è stato un qualcosa che è arrivato paradossalmente in maniera del tutto naturale tim barton è quel classico autore che si è sempre trovato al posto giusto nel momento giusto con le persone giuste partiamo dall'inizio della sua carriera per esempio lui nasce alla fine degli anni 50 in un soborgo di los angeles in california che si chiama burbank una cittadina abbastanza piatta dove la la vita di tutti i giorni si svolge in maniera in maniera monotona addirittura un soborgo che alla fine dell'ottocento era stato creato da un dentista che era anche un allevatore di pecore quindi veramente una cittadina è basata basata sul nulla però burbank diventa la sede dei maggiori studios hollywoodiani come la disney la warner la universal e la fortuna di tim barton è quella di nascere proprio lì a poche centinaia di metri da questi da questi studios e fin dalla fin dalla giovinezza la sua formazione si nutre si nutre di ossessioni barton naturalmente ha una un temperamento molto molto schivo non fa amicizia facilmente con gli altri ragazzi ha un rapporto molto conflittuale con con la sua famiglia con il padre con con la madre con il fratello e talmente conflittuale che all'età di 13 anni si trasferisce a vivere a casa della nonna e dopo qualche mese addirittura si trasferisce su una soffitta a casa della nonna pagandole addirittura un affitto per per mantenere la sua la sua indipendenza barton è un ragazzo molto solitario che si nutre per l'appunto delle proprie ossessioni ossessioni fatte principalmente dal concetto di morte ma dal concetto di morte vissuti in maniera abbastanza particolare perché appena un momento libero va a giocare a disegnare in un cimitero che si trova dietro casa ma spia una comunità ispano americana che si trova appunto nel suo quartiere e attraverso loro scopre il dia dello smuertos le calaveras e tutto un aspetto legato alla morte non così ossessivo come siamo abituati a pensarlo nel mondo occidentale piuttosto legato ad un concetto colorato un concetto di di festa a un concetto di morte che è ineluttabile ma non è un evento così negativo come la nostra cultura ci impone di pensare quindi la formazione di barton comincia comincia in questo modo e poi per passare il tempo si rifugia al cinema in in quei piccoli cinema dove con un solo biglietto potevi vedere più proiezioni nella stessa giornata e questi questi film generalmente erano film dell'orrore thriller e tutti quei film popolati dai mostri come frankenstein la mummia l'uomo lupo il mostro della laguna nera quindi barton sviluppa una passione e una vera e propria ossessione per la mostruosità per per il mostro per per la diversità sentendosi lui stesso un mostro sentendosi un diverso non accettato dai suoi coetanei dai suoi compagni di classe e quindi si identifica con i mostri che che vede che vede sullo schermo c'è da sottolineare una cosa abbastanza importante barton e lo ha sempre ammesso a un odio per i libri non non gli piace leggere non non può vedere un libro che non contiene delle immagini è un po come le prime righe dell'alice di louis carroll no con alice che dice che cosa me ne faccio di un libro senza senza immagini e da lì parte tutto tutto il racconto meraviglioso dell'universo creato da carroll e per per barton è la stessa cosa non sa che cosa farsene di libri solamente scritti e quindi la sua cultura tutto quello che si va a formare è una sorta di cultura riflessa oggi noi pensiamo a un tim barton con una cultura smisurata che va da l'espressionismo tedesco il surrealismo riferimenti pittorici nella pittura antica che vanno da bosch bregel tantissimi visionari romantici dell'ottocento registi anche italiani come fellini mario bava o tantissimi altri ma dobbiamo pensare che quella di barton è una una cultura che gli arriva dalla visione di opere commerciali di opere pop che contenevano dei rimandi anche abbastanza labili che fanno scattare nel giovane barton dei meccanismi tali che gli permettono di costruire i pilastri fondamentali della sua poetica espressiva per fare un esempio barton si è sempre dichiarato appassionatissimo della letteratura e dei racconti di edgar all'ampo ma chiaramente non amando i libri non ha mai letto un racconto di edgar all'ampo bensì questi racconti gli arrivano dei film interpretati da vincer price dai film prodotti dalla hammer una casa di produzione inglese specializzata proprio in film horror e in particolare ispirati ai racconti di edgar all'ampo e di tantissimi altri autori in questi film della hammer dove viene rivisitato edgar all'ampo lui scopre le storture gli stilemi determinati modi di rappresentazione che provengono direttamente dai film dell'espressionismo tedesco come il gabinetto del dottor caligari metropolis e tantissimi altri e questo entra di prepotenza nell'immaginario bartoniano e cominciando a costruire quelle che sono le basi poi di una visione che che diventerà unica e si imporrà nella nella cultura contemporanea in maniera veramente veramente indelebile quella di barton è veramente un'ossessione è ossessionato da questi film è ossessionato da da questi racconti ma non capisce bene come organizzare questo materiale perché parliamoci chiaro tutto nasce sempre dall'ossessione per qualcosa ma riuscire ad arrivare a capire come mettere a frutto questa ossessione per trasformarla in un qualcosa che può diventare una forma espressiva forse è il nocciolo più difficile da andare a diparare a snocciolare scusatemi il 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 gioco di parole e qui interviene interviene il caso i professori a scuola non amano quello che barton disegna barton è molto bravo a disegnare e io oggi lo ritengo veramente il più grande scarabocchiatore che esista al mondo e per me parlare di scarabocchio non è un qualcosa di un diminutivo un dispregiativo anzi secondo me il fatto di saper scarabocchiare rappresenta una forma di espressione una forma d'arte che è inarrivabile per me barton in questo è veramente veramente insuperabile perché con pochi tratti con un pennarello con una matita lui è in grado di andare a fermare sulla carta quelle che sono i sogni le ossessioni che che navigano che alleggiano all'interno all'interno della della sua testa e una cosa che non avevo mai visto per esempio che sono esposti in mostra adesso qui alla mola antonelliana sono decine e decine di tovaglioli di carta fazzolettini bustine del pezzettini di carta su cui lui ha fermato in maniera molto veloce degli appunti degli appunti visivi appunti visivi che poi improvvisamente tu ritrovi all'interno di uno dei suoi film e ti rendi conto di come quello scarabocchio può rappresentare veramente la prima cellula il primo germe di qualcosa che poi diventa tutt'altro e arriva a contaminare l'immaginario collettivo inutile dire che sono rimasto veramente colpito per esempio dall'evoluzione di tutti gli schizzi di tutti gli scarabocchi legati a edward mani di forbice da da un primo schizzo che lui aveva fatto quando era ragazzo dove non era neanche edward ancora ma era un personaggio che aveva la voglia e la necessità di comunicare e di toccare le persone le cose che erano intorno a lui ma per un difetto fisico non riusciva a farlo da lì questo schizzo si è evoluto è diventato tanti altri personaggi fino a diventare edward mani di forbice e a far avere addirittura un'evoluzione dello stesso personaggio e vedere questa sorta di trasformazione continua attraverso gli schizzi attraverso gli scarabocchi è veramente un qualcosa di unico fatto sta che i professori a scuola come sempre succede dicono a tim burton per l'appunto che non sta tanto bene che è ossessionato che la dovrebbe smettere questo con queste ossessioni che affollano la sua mente dovrebbe fare dello sport pensare alle ragazze fare tutt'altro e smetterla soprattutto di disegnare e di scarabocchiare in quel modo soprattutto facendo sproporzioni capuccioni giganti magliettine righe spirali che non si sa poi alla fine che cosa significhino queste queste spirali e quindi forse sarebbe il caso che visto quello che tira fuori smettesse di disegnare ecco se probabilmente burton avesse dato retta a tutti questi professori oggi non staremmo qui a parlare di lui ma per fortuna a un certo punto lui ha una forza d'animo e qui la forza dell'ossessione che ti spinge a dire no non me ne importa assolutamente nulla non vi piacciono i miei disegni a me danno una sorta di spirito di libertà quindi sapete che vi dico io continuo a farli non diventerò un artista non diventerò nessuno di famoso però quantomeno mi esprimo ed esprimo le mie ossessioni attraverso i miei scarabocchi la fortuna vuole e qui a volte nella vita il caso viene viene in soccorso che un suo professore in particolare di arte collaborava con gli studios della disney quindi lo prende di peso lo porta e con il suo aiuto vince una borsa di studio ed entra a far parte degli degli studi disney entra prima in una scuola d'arte vicino burbank a valencia sempre in in california usufruisce di una borsa di studio frequente i primi due anni alla fine non sa più come mantenersi perché questa borsa di studio sembra che non venga rinnovata fortuna vuole che i dirigenti degli studi disney alla fine dell'anno vanno a vedere i lavori dei ragazzi e insomma tim burton viene scelto per lavorare all'interno degli studi disney sembrerebbe questo l'inizio di una bellissima avventura finalmente tim burton è felice ma in realtà no perché una personalità che si nutre delle proprie ossessioni deve continuare a nutrirsi delle proprie ossessioni e non può essere messo a lavorare in una filiera produttiva dove poveretto lo mettono a lavorare su red e toby nemici amici quindi costretto dalla mattina alla sera a disegnare delle volpi sorridenti aggraziate e lui oggi ricorda quel periodo veramente con 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 tanto dolore e dice che le sue volpi sembravano più degli animali investiti lungo la strada piuttosto che dei personaggi da da cartone animato passa dei mesi degli anni in cui realizza a livello di disegno il minimo sindacale e passa delle ore chiusi in uno sgabuzzino o fermo al tavolo con la matita in mano nella stessa posizione un giorno in preda appunto ai pensieri alle sue ossessioni e al dolore provocato dal mal di denti si strappa con le mani un dente del giudizio e lo strofina sul muro di un corridoio praticamente imbrattando tutto di sangue lasciando delle scie e addirittura proprio a sui dire e ebbe un'emorogia tale che lo dovrebbe lo dovettero portare all'ospedale che stava dall'altra parte della strada quindi l'inizio della carriera di Barton non è non è facile per fortuna in tempi ancora non sospetti Barton non era il solo a combattere con le proprie ossessioni e insieme a tanti altri ossessionati viene portati in un reparto fa ridere questa cosa perché sembra un po' come parlare di una sorta di ospedale psichiatrico qualcosa di particolare in realtà viene trasferito insieme ad altri in un nascente reparto dove vengono messi tutti i disegnatori che non sono in grado di lavorare nelle filiere dell'animazione ma talmente bravi talmente fantasiosi talmente ossessionati che il loro lavoro potrebbe servire per ispirazione per per fare qualcosa nei progetti successivi in realtà altro non era che un nascente reparto di concept artist oggi è quello che in tutte le filiere produttive di tutto il mondo viene utilizzato ma negli anni 60 non era non era così scontato inutile dire che neanche uno dei disegni di Barton verrà mai utilizzato nei film della disney esistono dei bozzetti sviluppati per tarone la pentola magica ma sono considerati dai dirigenti della disney troppo estremi troppo macabri troppo troppo particolari per per essere utilizzati arriva un'altra fortuna capiscono la la bravura di di tim barton e decidono di dargli un finanziamento per realizzare il suo primo cortometraggio cortometraggio che sarà in animazione stop motion e sarà quel cortometraggio memorabile chiamato vincent che poi aprirà la strada a tutta a tutta la sua la sua carriera che cos'è vincent è un film molto piccolo di pochi minuti sono cinque minuti in animazione stop motion in cui tim barton realizza un suo piccolo autoritratto a passo 1 con uno stile che richiama l'espressionismo tedesco del dottor caligari dove racconta la storia di se stesso ma attraverso un suo alter ego chiamato vincent che è un bambino solitario schivo che non va d'accordo con nessuno che ama i racconti e le poesie di edgar all'ampo pensa di essere vincent price e vive in questa sua ossessione in questa sua sua fantasia inutile dire che è un piccolo capolavoro una una perla rara e a tutt'oggi nonostante barton abbia realizzato tantissime altre cose anche in animazione stop motion è da considerarsi uno dei dei lavori più importanti e più più sentiti che che abbia mai fatto ma probabilmente è proprio tutto quello che ha fatto nel campo dell'animazione stop motion che per lui è sempre una sorta di valvola di sfogo e non dimentichiamoci che oggi esiste l'animazione stop motion questa forma di animazione nera macabra particolare che viene relegata tenuta nell'ombra fino a un certo punto della storia del cinema e poi riesce fuori proprio grazie a tim barton cioè ci voleva un temperamento come come quello di tim barton per riportare in auge una tecnica che invece era stata relegata veramente nell'ombra perché considerata l'anima nera della dell'animazione era un po la cenerentola del del mondo dell'animazione da lì barton parte con una carriera di latino fatta naturalmente di alti e bassi molto più alti che bassi perché diciamo che i passi falsi nella sua carriera veramente si contano sulla punta delle dita ed è sempre in grado dal progetto successivo a riuscire a rimettersi in sesto Questo perché? Perché riesce in maniera quasi darwiniana a resistere, cioè diventa una specie di regista, di filmmaker ossessivo in grado di salvaguardare se stesso e quindi lì dove tanti altri poi crollano inesorabilmente sotto il peso dei produttori, delle imposizioni che vengono date, Barton riesce a sviluppare un suo sistema del tutto naturale per salvaguardare quello che è il suo immaginario e le sue ossessioni. Ma stiamo parlando di ossessioni, ma quale potrebbe essere l'ossessione principale di Tim Barton? Ce ne sono tante naturalmente, però la principale, l'ossessione più forte sicuramente è quella per la diversità, quella per la mostruosità, che va vista in una maniera del tutto particolare, perché in realtà Barton si sente un diverso, si sente un mostro. Quindi è un'ossessività al contrario, diciamo che lui non è ossessionato dal mostro e lui vede il mostro dall'esterno, lui vede il mostro dall'interno. Quindi se vogliamo potremmo parlare di una sorta di ossessione verso il prossimo, cioè un qualcosa che lo fa sentire sempre indifensiva, che lo fa sentire sempre sotto processo, attaccato. Barton si identifica con la diversità, si identifica con la mostruosità. E attenzione, quando parlo di mostruosità, parlo di mostruosità in un senso romantico e affettuoso del termine. Molto spesso, per esempio, è stato usato per la diversità bartoniana il termine di reietto, ma reietto secondo me non si cuce bene addosso al concetto di diversità bartoniana, perché il mostro tanto caro a Barton, il mostro Barton, è un mostro che ha bisogno di comunicare, è un mostro che ha bisogno di affetto, che ha bisogno di sentirsi a contatto con i propri simili e ha bisogno di essere accettato per quello che è. Proprio in questi giorni, pensando al concetto delle ossessioni, riflettevo sull'ossessione di Barton per la diversità, per la mostruosità, ed è singolare pensare che è esattamente il contrario del concetto del perturbante freudiano. Io in questi ultimi anni sono stato ossessionato anche da questo, dal concetto di perturbante. Che cos'è il perturbante? È una sensazione, un fenomeno che è stato teorizzato da Freud in un suo saggio, per l'appunto intitolato Il perturbante, e lui per spiegarlo, per farlo capire, ha utilizzato un racconto di Hoffman che si chiama L'uomo della sabbia, un capolavoro della letteratura gotica romantica, dove c'è uno studente fuorisede, ossessionato da questo racconto dell'orco della sabbia, che vive sulla luna, che ha dei piccoli in un nido e la notte scende sulla terra per strappare gli occhi ai bambini cattivi e portarli in pasto ai suoi piccoli sulla luna. Si potrebbe pensare che il perturbante è proprio questo, ma in realtà lì è un elemento orrorifico, inquietante, non è quello il perturbante. In realtà il perturbante risiede nel frutto della sua fascinazione. Lui si innamora perdutamente della figlia del professore che lo ospita a casa, se ne sente fortemente attratto, ma al tempo stesso avverte che c'è qualcosa che non va. Perché? Perché alla fine dei giochi si scoprirà che Olimpia, questa ragazza, in realtà non è una ragazza in carne ed ossa, ma è un automa costruito da questo professore. Quindi Freud come spiega il concetto di perturbante? Disturbante come una sorta di sensazione che ci attrae verso qualcosa, che ci fa sembrare quel qualcosa familiare che ci fa sentire al nostro agio e poi quando ci si avvicina, man mano che ci si avvicina sempre di più, si avverte un qualcosa di sinistro, di fastidioso, quasi un senso di pericolo che alla fine ci fa tornare indietro sui nostri passi. Quindi una sorta di familiare non familiare. E perché dico che su Tim Burton c'è un ribaltamento? Perché è esattamente l'opposto. Il mostro, il diverso bartoniano, è quel qualcosa che all'inizio può creare repulsione, può creare paura, può creare una forma respingente, poi se ci si lascia un po' andare, ci si avvicina, si conosce tutta l'amore, tutta l'umanità, la dolcezza di questo essere e si abbandona quella risorosia iniziale che ci poteva essere. Quindi partiamo a ritroso, un non familiare che poi alla fine diventa familiare. E se vogliamo avere una rappresentazione precisa, una sorta di manifesto di tutto questo, lo troviamo certamente nel suo film più sentito, più riuscito che per l'appunto è Due Armadi di forbice, dove il concetto di diverso, di mostruoso, di pericoloso, improvvisamente dopo pochissime scene del film, lo avvertiamo come un qualcosa a cui volere un gran bene e facciamo il tifo per lui. Questo è veramente il centro dell'ossessione bartoniana. Comunque Barton è ossessionato dalle immagini, dal creare immagini, dalla visione, un po' come lo sono tutti i registi. Credo che chiunque oggi faccia cinema lo faccia perché comunque ha questa ossessione incontenibile per le immagini. Credo che non sia neanche un'ossessione per il raccontare storia. Viene prima l'immagine e poi viene la storia. Quando poi c'è la storia, l'immagine diventa un altro modo per raccontare le storie. Quindi si parte da un processo di scrittura per poi trasformarlo in forma di immagine. Ed è peculiare come Barton da giovane abbia dichiarato di non amare i libri, di non amare la scrittura, ma alla fine la maggior parte dei suoi film, soprattutto quelli più sentiti, come Edward Maddy di Forbice, per l'appunto Nightmare Before Christmas e tantissimi altri che partono veramente da alcune sue istanze espressive, alla fine partono da una sua forma di scrittura. Una forma di scrittura che è a metà tra lo scarabocchio, quindi è una scrittura che è codificata attraverso un qualcosa che non è espresso attraverso le lettere dell'alfabeto. Ma è un po' come se fosse una sorta di geroglifico egiziano, un qualcosa, ma molti registi hanno questa ossessione per l'immagine e si esprimono con dei linguaggi visivi che mettono appunto sulla base del fermare le proprie idee che passano per la mente. Se pensiamo per esempio a Ridley Scott, Ridley Scott sul set comunica principalmente attraverso scarabocchi che sono la traduzione emotiva attraverso dei segni di quello che è riportato sulla sceneggiatura. Sono talmente usati questi scarabocchi che sono stati ribattezzati i ridilogrammi. Quindi questo vuol dire che il disegno diventa un qualcosa, lo scarabocchio diventa un qualcosa, un'ossessione che va di pari passo con la scrittura cinematografica. Quindi è peculiare pensare che per Barton c'è una prima fase di scrittura completamente intima, fatta di scarabocchi, di piccole frasi, di appunti, che poi a un certo punto deve essere condivisa con qualcuno per cercare di renderla fruibile e farla entrare in tutto quel grosso tritacarne, quella macchina cinema che consente poi di fare un film. E Barton in tutto questo, fin dall'inizio, capisce che non deve scrivere, non deve essere lui che scrive i suoi film proprio per mantenere il giusto distacco emotivo e poter intervenire attraverso i suoi scarabocchi per ottenere esattamente un qualcosa che sia il più rispondente possibile al suo processo mentale. Negli anni si avvicenderanno tantissimi scrittori, tantissimi sceneggiatori, una su tutti Caroline Thompson che esordisce con lui proprio sulla sceneggiatura di Edward Mani di Forbice e poi diventerà veramente una sua fida collaboratrice fino agli ultimissimi film. Ma la scrittura, secondo me, nonostante si creano immagini cinematografiche, si disegni la scrittura, proprio la fase dello scrivere, anche se si parte da una negazione, anche quella diventa un'ossessione. E Tim Burton stesso arriva alla fine a realizzare un suo libro, un libro che tutti noi conosciamo sicuramente anche in Italia, che è Morte malinconica del bambino ostrica e altre storie. Un libretto molto semplice che parte proprio da scarabocchi, scarabocchi di mostriciattoli diversi, bambini strani, di cui è raccontato per ognuno la storia in versi. Sono delle piccole filastroche all'apparenza semplici, ma che contengono tutto l'immaginario bartoniano. Ed è peculiare vedere in libreria un libro scritto e disegnato da Tim Burton, da quel Tim Burton che aveva sempre detto che odiava i libri. Il problema di Barton è che si tende sempre a semplificarlo troppo, a sminuirlo molto. In realtà queste filastroche all'apparenza semplici che purtroppo nella traduzione italiana, nonostante sia molto godibile, sia fatta in maniera, se vogliamo un po' troppo commerciale, non rendono giustizia all'originale in lingua inglese. Per dirla tutta, per esempio, non so, Freeway viene tradotta con Via Aurelia o ci sono tantissime altre piccole cose che si allontanano poi dall'immaginario dei soborghi americani in cui è nato e si è formato Tim Burton, quindi diventa un po' difficile italianizzare determinati concetti. Comunque è un libro bellissimo anche nella traduzione italiana, soprattutto per gli scarabocchi che contiene. Ci troviamo personaggi come il bambino mummia, la bambina con molti occhi, il supereroe stand boy, il bambino macchia che non ha superpoteri e se ne sta per i fatti suoi, quindi il bambino con i chiodi negli occhi, la bambina bruciata. Sono tante piccole storie di varia e diversa fanciullezza. Sono dei componimenti apparentemente bislacchi, apparentemente molto semplici, che però nascondono un significato e delle verità molto profonde. Per me, che ho avuto modo negli scorsi anni di approfondire, e questa è stata anche un'altra mia ossessione, ritirare fuori e far conoscere al pubblico italiano il lavoro dello scrittore tedesco Christian Morgensen, che creò una serie di componimenti apparentemente infantili chiamati Galgenlieder, i canti della forca, che sono accomunabili ai componimenti di Barton, ma lo stesso Morgensen in realtà utilizzava questi componimenti che erano i racconti, i canti squinternati di un gruppo di impiccati sul colle del patibolo che dall'alto della loro posizione riuscivano a vedere il mondo in maniera diversa e vedendo questo mondo in una maniera differente riuscivano a comprendere delle verità che non erano poi accessibili a tutti. Quindi Morgensen stesso, che era inizialmente un seguace delle filosofie di Nietzsche e poi successivamente divenne steneriano, naturalmente voleva andare a disseminare dei significati molto più alti all'interno dei suoi componimenti. E anche Barton, a mio avviso, fa la stessa identica cosa. Si parte con un gioco molto semplice, molto fanciullesco, ma poi in realtà dentro questi piccoli componimenti in ognuno c'è il germe della sua ossessione, del suo essere diverso, del voler riaffrancare questa diversità e del volerla far avvicinare a tutti, farla amare in maniera differente. Naturalmente, né Barton e né Morgensen ne sono i primi a fare un lavoro di questo genere, perché uno dei referenti principali, per esempio, di Tim Barton è Eduard Gorey, illustratore bravissimo, in punta di pennino, che anche lui ha creato componimenti di questo genere, o potremmo pensare anche alle filastroche non-sense di Eduard Lear, o anche ai componimenti al di fuori di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Quindi, insomma, è strano parlare di un'ossessione da parte di Barton per una forma di letteratura così ramificata, così stratificata da parte di una persona come Barton che dice di non amare i libri. Non credo neanche che ci sia una provocazione da parte di Tim Barton, perché a differenza di tanti altri registi come Green e poi per l'appunto invece che sono dei provocatori veri e propri, in Barton non c'è mai stata la volontà di voler provocare o di voler irritare il pubblico. Quindi è sempre un qualcosa di molto sentito, di molto estemporaneo. Nel corso della sua carriera ha affrontato tantissimi tantissimi temi ha rivisitato la maggior parte dei generi cinematografici dall'horror alla fantascienza ma facendolo sempre in una maniera molto garbata, molto romantica, molto pacata e quindi probabilmente è proprio questo il motivo del suo grande successo. Parliamoci chiaro, Barton oggi è una vera e propria icona pop nell'immaginario collettivo Barton si è imposto in una maniera tale da diventare veramente un'ossessione per tantissimi me compresi e si è imposto in una maniera tale addirittura da far nascere una corrente di pensiero una corrente espressiva se pensiamo che nei vocabolari francesi è riportato il termine bartonesque che rappresenta una forma di corrente artistica molti hanno provato a iscrivere Barton nel movimento chiamato pop surrealism che paradossalmente nasce anche questo alla fine degli anni 50 inizio anni 60 nei soborghi di Los Angeles ma Barton stesso dice di non aver mai avuto nulla a che fare col movimento pop surrealista anche se andiamo ad analizzare proprio il termine surrealismo pop è esattamente quello che è Tim Barton perché comunque è un grande fantasticatore un grande sognatore un grande pittore delle proprie ossessioni ma che lo fa in maniera molto colorata molto popolare utilizzando una forma di espressione che poi alla fine è accessibile a tutti ed è veramente incredibile paradossale che Barton dice di non appartenere a un movimento come il pop surrealism e il pop surrealism stesso viene invece influenzato da Tim Barton tanto è vero che oggi alcuni dei massimi esponenti artisti come Elizabeth McGrath Mark Rydon Joe Sorren realizzano dipingono scolpiscono delle figure con capuccioni magliettine a righe delle sproporzioni che sono tipicamente bartoniane quindi inutile dire che Barton ha influenzato anche l'immaginario collettivo legato alle arti espressive contemporane non solamente in una in una accezione accezione pop e poi verrebbe da fare in finale una considerazione su quello che oggi è il cinema perché Barton d'accordo nasce in America si sviluppa in un in un ambiente hollywoodiano certamente non facile per un autore ma proprio per la forza della sua ossessione della sua visione dei pilastri base della sua poetica espressiva riesce ad imporsi in maniera tale da diventare uno dei pochissimi e più rappresentativi autori che esistono nel panorama hollywoodiano all'inizio naturalmente fatica ad imporsi ma grazie come dicevamo ad alcuni colpi di fortuna riesce chiaramente a farlo perché la forza del suo immaginario è talmente forte da fare intuire a coloro che detengono il potere che sulla base di questo si può anche guadagnare e si può anche guadagnare bene ma nel momento in cui Barton riesce a crearsi quella fama come si dice in gergo di bancabile Barton diventa bancabile quindi si può investire su Barton riesce a puntare i piedi quanto basta per realizzare i suoi film e realizzarli veramente come vuole mettendo a punto degli espedienti che gli consentono di andare avanti e questo naturalmente non lo mette a riparo dai tanti rischi perché riesce a dare il meglio di sé negli anni 80 negli anni 90 quando ancora anche in Europa era permesso fare una certa tipologia di cinema d'autore dove la politica dell'autore ancora aveva un po' ragion d'essere poi a un certo punto il cinema commerciale riesce a cannibalizzare il tutto l'avvento del digitale le piattaforme il politicamente corretto arrivano a a sconvolgere tutto questo e quindi lo stesso Tim Burton deve mettere in atto delle strategie alternative per riuscire a sopravvivere ma diciamo che Tim Burton è un po' come il suo piccolo supereroe del libro di Filastroche come il il bambino super macchia che non ha superpoteri e se ne sta per i fatti suoi Burton ha dei superpoteri sono le sue ossessioni sono il suo modo di rappresentare i suoi diversi la sua tanto amata mostruosità ma riesce a starsene in disparte entrando al momento giusto per imporre la sua la sua visione e credo che un esempio di tutto questo sia il suo ultimo lavoro in assoluto che è la serie televisiva per Netflix mercoledì dove c'è tutto Tim Burton ma Tim Burton lavora di caratterizzazione di progettazione di supervisione delle linee guida lavora la costruzione di un mondo visivo immaginifico e poetico e si adatta a quelli che sono poi i meccanismi narrativi quei dispositivi narrativi consolidati quell'essere politicamente corretto e inserire tutti i generi tutte le etnie in modo tale che nessuno rimanga offeso e che nessuno rimanga rimanga scontento quindi è il classico lavoro che a mio avviso va visto con un occhio con un occhio differente va visto proprio in funzione della poetica bartoniana in funzione dell'ossessione bartoniana lasciando andare quella che è la trama vera e propria perché la trama in fondo è una trama stra abusata il classico team movie con tanto di scena di ballo finale dinamiche tra adolescenti però basta per esempio pensare a quella scena per capire la forza di rompente del modo di fare di barton sull'immaginario collettivo decide di far ballare mercoledì su un pezzo dei The Cramps Go Go Mack che è una band post-punk psycho billy della metà degli anni 80 che nessuno si sognava più di sentire beh barton decide di mettere quel pezzo e oggi tutti gli adolescenti ascoltano i The Cramps quindi questo vuol dire che barton è anche un grandissimo influencer e chiaramente le piattaforme i produttori sanno bene questo e quindi si lavora anche in quella in quella in quella direzione io direi che forse è venuto il momento di lasciare un po' di spazio a eventuali domande vado a leggere se se ce ne sono vediamo non vedo domande domande in arrivo vi invito naturalmente a a farlo se se ce ne sono che cosa potremmo potremmo aggiungere beh mentre aspettiamo che arrivino delle domande direi che visto che ci troviamo qui a scuola Olden nel cuore di Torino e che siamo qui oggi a parlare di Tim Burton delle ossessioni di Tim Burton proprio perché fino ad aprile rimane alla mola antonelliana al Museo Nazionale del Cinema la sua mostra personale Il mondo di Tim Burton quindi inviterei ad andare a vedere la mostra ma vi chiederei di vederla dopo questa sorta di chiacchierata anche con un occhio differente guardate questa questa mostra all'insegna dell'ossessione bartoniana per la diversità e attraverso il potere del suo scarabocchio come lo scarabocchio di Tim Burton riesce a diventare la rappresentazione in pochissimi ritratti in pochissimi tratti di un'ossessione e lo stesso Burton qualche settimana fa quando è venuto per l'inaugurazione a vedere la mostra nonostante abbia visto le stesse opere esposte in tantissime altre parti del mondo si è dimostrato veramente favorevolmente colpita da quello che era l'allestimento soprattutto per la mola antonelliana che chiaramente è frutto di un'architettura visionaria molto vicina agli stilemi anche di Tim Burton ma per una casualità la mostra è organizzata sulla spirale sulla rampa elicoidale quindi si parte da questi famosi scarabocchi che noi vediamo intorno all'ascensore che sono veramente Tim Burton intorno al mondo tanti scarabocchi realizzati in bar ristoranti e camere d'albergo si passa all'inizio della rampa per la ricostruzione del suo studio e da lì polaroidi scarabocchi fotografie appunti e veramente riusciamo in maniera elicoidale a ripercorrere tutta l'ossessione di Tim Burton tra l'altro io credo che il cinema sia un'ossessione e non sono io a definirlo un'ossessione perché il cinema stesso è stato definito la magnifica ossessione facciamoci questo percorso sulla rampa fino ad arrivare alla fine in cima quasi sotto la cupola dove ci sono esposti gli originali dei burattini dei film in animazione stop motion e vederli dal vero per me sinceramente è una grandissima emozione e mi auguro anche per chi vuole vedere questa mostra vediamo nel frattempo se sono arrivate delle domande allora Amalia mi chiede qual è il film meno poetico di Tim Burton e perché secondo lei allora è brutto dire questo qual è il film meno poetico però sicuramente potrei dire il pianeta delle scimmie il pianeta delle scimmie perché arriva in un periodo non facile per Tim Burton sono quei film che si fanno un po' per scelta quasi quasi imposta c'era una grande fascinazione per l'originale degli anni 60 con Charlton Heston però forse non era il film giusto in quel momento Burton addirittura sul sette poi rischia di morire di polmonite si rompe una costola finisce la relazione con Lisa Marie insomma non è un buon periodo non affronta il film nel modo giusto e sicuramente potrei dire che il pianeta delle scimmie è il film meno poetico di Tim Burton però probabilmente è una mia una mia idea poi vediamo perché c'è questa ossessione attuale per mostri vampiri zombie fantasmi e cose di questo tipo non credo che sia un'ossessione attuale credo che sia un'ossessione che ci è sempre stata perché se andiamo a vedere indietro anche nelle epoche ci è sempre stata e potremmo partire dall'epoca medievale dove questa ossessione era rappresentata addirittura negli affreschi delle chiese con le danze magabre i tionfi della morte poi arriviamo comunque nel periodo barocco dove c'era una grande ossessione per tutto questo fino ad arrivare al periodo della grande letteratura romantica dove chiaramente non c'era il cinema ma a livello di racconti e di romanzi se pensiamo ai grandi romanzi come il vampiro di Polidori il Dracula di Brastocker Frank Sten di Mary Shelley i racconti di Edgar Allan Poe di Guy de Montpassant poi a un certo punto arriva addirittura al cinema il cinema si nutre di tutto questo quindi direi che non è un'ossessione di questi ultimi tempi ma è una continua riscoperta una rimodernizzazione di un'ossessione che è antica quanto l'uomo e forse è il fascino dell'ignoto è il fascino per qualcosa che quel perturbante freudiano di cui parlavamo prima quel qualcosa che ci attrae ma al tempo stesso ci spaventa vediamo la mostra è bellissima l'ho vista la scorsa settimana ok perfetto mostra da non perdere ecco c'è Umberto che mi dice che ha amato particolarmente Edwood e cosa ne penso di quel grande film appunto penso anch'io che sia un grandissimo film perché forse è uno dei film con un impatto più realistico rispetto agli altri perché racconta una storia vera è ispirato alla vera storia del peggior regista della storia del cinema che è Edwood nel quale naturalmente Barton si identifica con tutte le scarpe e quindi fa questa sorta di doppio omaggio a Edwood che tenta in tutti i modi di diventare un regista hollywoodiano nonostante il suo modo di fare non propriamente adatto a diventare un regista oltre alle sue ossessioni per esempio Edwood ha un'ossessione incredibile per i colfini d'angora questa è un'altra ossessione che viene fuori ma è anche il modo per rendere omaggio ad un altro grande attore del cinema di mostri che è Bella Lugosi che è uno dei personaggi del film che aveva lavorato con Edwood è un film bellissimo poetico Edwood è un regista ma è l'ennesimo mostro è l'ennesimo diverso dell'immaginario bartoniano con un bianco e nero folgorante è un film scritto veramente veramente bene è poesia poesia cinematografica Quali sono secondo lei le mostruosità contemporanee di se è giusto parlare senza entrare in conflitto con il politicamente corretto allora secondo me la più grossa mostruosità contemporanea che può esistere oggi è la maleducazione digitale cioè il fatto che ognuno grazie a internet grazie all'anonimato possa dire quello che vuole su chiunque e questa secondo me è una grande forma di mostruosità perché è giusto esprimere le proprie idee però sarebbe anche giusto starsene zitti al proprio posto quando sarebbe il momento di doverlo fare oggi viviamo in un'epoca in cui tutti sono influencer e contemporaneamente tutti sono haters e tutti si attaccano l'uno con l'altro e la piattaforma digitale è diventata una vera e propria mostruosità quindi parlere probabilmente forse la mostruosità moderna è proprio la mostruosità digitale c'è un mostro digitale che è in forme enorme in continuo sviluppo che secondo me è da è da temere oltretutto oggi questa mostruosità digitale è sostenuta da un altro mostro che è chiamato intelligenza artificiale di cui probabilmente sarebbe il caso di parlare in maniera molto più approfondita sto studiando anche professionalmente per il mio ruolo didattico di formatore l'intelligenza artificiale gli sviluppi che sta avendo in questo ultimo periodo e devo dire che ha delle enormi potenzialità ma al tempo stesso è anche una grande mostruosità e un grandissimo pericolo per tornare al nostro caro Tim Burton lui ne è completamente sconvolto ne è completamente atterrito dice di essere rimasto malissimo nel vedere alcuni film della Disney tipo La Sirenetta Aladdin reinterpretati con l'intelligenza artificiale con il suo stile ha detto che quando ha visto questa immagine si è sentito come quei popoli primitivi vissuti al di fuori della civiltà quando arrivano degli esploratori con la macchina fotografica scattano loro una fotografia quindi ha sentito la stessa sensazione come se qualcuno gli volesse rubare l'anima e credo che questo veramente rappresenti questa forma di mostruosità digitale ma sarebbe un discorso molto lungo da fare una una tua lettura sul film Povere Creature c'è qualcosa di Barton visto il tema allora Povere Creature io purtroppo non l'ho ancora visto perché non sono riuscito a vedere l'anteprima al Festival di Venezia lo aspetto con con tantissimo con tantissima emozione ma secondo me in Povere Creature c'è molto poco di Tim Burton perché prima di tutto un film di Yorgos Lantimos che se dobbiamo proprio andare a vedere come referente principale ha più Peter Greenaway di cui parlavamo prima piuttosto che Tim Burton è comunque un film sulla diversità sulla sulla mostruosità io ho finito ora di leggere il romanzo e ci sono molti più punti di contatto col romanzo col Frankenstein di Mary Shelley piuttosto che con l'immaginario bartoniano e se dobbiamo andare a trovare dei riferimenti visivi almeno da quello che ho potuto vedere dagli spezzoni o dal trailer c'è molto di più di Jean-Pierre Genet o addirittura di quel Jean-Pierre Genet quando era in corpia con Marc Carot e quindi si firmavano Genet Carot e quindi molte cose simili alla città dei bambini perduti e Delicatessen quindi ti inviterei forse prima di andare a vedere Povere Creature di vedere questi due film per poi poter ponderare meglio meglio il tutto detto questo io credo che sarà un capolavoro con una grandissima Emma Stone con una scrittura strepitosa e con una regia che se tiene il passo di film come The Lobster o La Favorita ha tutte le carte in regole per essere un bellissimo film ma sicuramente poco bartoniano allora Nora mi chiede quali sono le differenze più evidenti tra i film in stop motion di Tim Burton e i classici film e perché non ha messo in cantiere un nuovo film in stop motion allora perché non lo abbia messo in cantiere non lo so e probabilmente non è escluso che lo faccia anche se Barton ha fatto un po' da pripista ha realizzato tre film e tutti e tre rappresentano dei mattoni che permettono alla tecnica di andare avanti Natti Made Before Christmas è ancora girato in pellicola ma è quello che permette di portare l'animazione stop motion al grande cinema alle grandi storie la sposa cadavere è quello che rappresenta un approfondimento tecnico sia per la fabbricazione dei burattini le teste con dei microcrani con brucole che quindi possono essere mossi fotogramma per fotogramma burattini complicatissimi costosissimi ma soprattutto il film che permette il passaggio al digitale la miniaturizzazione delle macchine da presa e quindi permette a tutti di poter realizzare animazione stop motion Frank Winnie è un po' un esercizio di stile che riporta l'animazione stop motion in territori bartoniani Barton se ne riappropria e torna ad una tipologia di animazione più intima più particolare più sua e non a caso va a fare un remake di un film che aveva fatto con attori in carne ed ossa e poi forse non ha fatto altri film perché ha permesso ad altri autori altrettanto importanti come Wes Anderson Guillermo del Toro Charlie Kaufman e tantissimi altri a cominciare ad utilizzare questa tecnica come forma di espressione vera e propria e sono loro che hanno aggiunto degli altri tasselli però aspettiamo probabilmente non è escluso che lo stesso Barton non torni a fare qualche altra cosa in stop motion e arrivi a stupirci con qualcosa di nuovo e magari di completamente diverso allora secondo te Giorgia mi chiede secondo te dove si trova il coraggio per portare avanti le proprie ossessioni anche quando il mondo sembra suggerirti che sono solo devianze da correggere qui ti posso rispondere in maniera in maniera personale se hai un'ossessione hai un'ossessione io proprio stamattina riflettendo sulle ossessioni pensavo ad un primo film che ho realizzato era 2003 o 2004 in cui il perno centrale del film erano proprio le ossessioni c'era un un professore che aveva una piccola scuola di anatomia in questo film che affittava poi degli appartamenti agli studenti in diverse epoche perché si nutriva delle ossessioni di questi ragazzi attraverso l'ossessione dei ragazzi lui riusciva a distillare una sorta di elisir di lunga vita che gli permetteva di vivere in eterno e c'è una frase che alla fine lui dice ad uno di questi ragazzi gli dice che si vive in virtù delle proprie ossessioni che le ossessioni assorbono l'infa vitale io credo che sono proprio le ossessioni che ti tengono in vita e se le ossessioni sono forti sono quelle che ti permettono di andare avanti e quindi non hai scelta devi necessariamente fare e andare avanti probabilmente quando l'ossessione non è così forte da darti delle motivazioni anche di vita anche la forza vitale potrebbe venire meno quindi credo che sia una sorta di istinto di sopravvivenza legato alla nostra mente al nostro raziocinio credo che per me per quanto mi riguarda proprio il mio essere ossessionato nel raccontare storie creare immagini immaginare personaggi questa mia ossessione è quella che mi permette di andare avanti e un giorno mi son detto che comunque si soffre bisogna sempre soffrire quindi tanto se bisogna soffrire tanto vale soffrire per una propria ossessione piuttosto che soffrire per qualcosa che invece non ci dà nessuna soddisfazione quindi la penso così ma probabilmente è un punto di vista personale allora poi mi chiedono del rapporto Tim Burton Johnny Depp marchio di fabbrica sì chiaramente Burton stesso dice che sono quegli incontri casuali ma sono quegli incontri casuali che poi diventano degli stilemi perché quando noi troviamo un autore in grado di mettere in scena la propria ossessione in maniera così riconoscibile è proprio grazie agli stilemi uno stilema è l'utilizzare sempre uno stesso volto sempre una stessa maschera ma aggiungerei oltre a Barton Depp anche Barton Elfman quindi la caratterizzazione dal punto di vista delle colonne sonore cioè che cosa sarebbero alcuni film di Tim Burton senza le colonne sonore di Danny Elfman quindi sono stilemi quindi fondamentali nascono sempre da una casualità e quando poi diventano reiterati diventano una carta vincente da giocare Barton come utilizza il colore c'è il concetto di perturbante non so quanto Barton sia consapevole del concetto di perturbante quanto lo traduca a livello di esperienza cromatica sicuramente c'è in maniera inconsapevole ma non so quanto possa essere pensata probabilmente c'è perché c'è una derivazione dall'espressionismo tedesco nell'espressionismo tedesco c'è tantissimo perturbante se pensiamo al gabinetto del dottor Caligari è basato proprio sul concetto di perturbante il fatto che Barton arrivi dall'espressionismo tedesco seppur in maniera riflessa attraverso i film della Hammer probabilmente fa sì che anche in Barton ci sia il concetto di perturbante quali potrebbero essere oggi i possibili erediti di Tim Barton eh questa è è difficile è difficile dirlo perché ci sono tanti autori che vengono considerati i suoi eredi ma sono a tutti gli effetti dei colleghi quindi non non possiamo certamente dire quali sono gli eredi probabilmente gli eredi li vedremo in questi in questi in questi anni non non saprei dire questa è una risposta che che non so dare bene vedo che non ci sono delle altre domande io credo di di aver risposto grosso modo a tutti quindi nell'augurarvi una buona serata e buone ossessioni torno anch'io alle mie alle mie ossessioni e nulla magari ci rivedremo prossimamente su questi schermi visto che in questo momento sto tornando al mio lavoro su Peter Greenway sulle sue ossessioni e sto lavorando su un libro dedicato a lui magari uno dei prossimi incontri potrebbe essere proprio dedicato alle ossessioni greenwayane per il momento vi auguro una buonissima serata e grazie del tempo passato insieme ciao a tutti